La figlia Ilenia è sempre nei pensieri di Romina Power, su Instagram il messaggio indirizzato a lei che commuove i fan. La vita di Albano Carrisi e Romina Power, una delle coppie più amate e iconiche del mondo dello spettacolo, è stata segnata irrimediabilmente dalla scomparsa della figlia Ilenia. La figlia primogenita dei due scomparve il 6 gennaio del 1994, all'età di 23 anni, quando si trovava a New Orleans. Una scomparsa che ha fatto molto discutere e che ha rappresentato uno dei casi di cronaca più complessi e controversi di questi anni. Il corpo di Ilenia infatti non è mai stato ritrovato. Testimonianze riferivano di averla vista tuffarsi nel fiume Mississippi. Nel corso del tempo si sono poi susseguite ricostruzioni e segnalazioni che però non hanno mai fatto totalmente chiarezza sull'accaduto. Suo padre Albano, nel 2013, presentò istanza di dichiarazione di morte presunta. Una istanza accolta quasi due anni dopo dal tribunale, ma una decisione, questa che non ha mai trovato d'accordo Romina. La donna ha continuato a sperare, e lo spera tuttora, che Ilenia sia ancora viva, da qualche parte. Romina Power chiama, Ilenia, sono qui che ti sto aspettando, molto spesso, sui suoi profili social e nelle sue apparizioni pubbliche. Romina continua a rivolgere i suoi pensieri a sua figlia, con dediche commoventi e con messaggi che la ricordano. Anche in uno degli ultimi post su Instagram, ha mandato un appello ad Ilenia, Romina, a margine di una foto risalente agli anni 80 che le ritrae una di fianco all'altra, scrive, Ilenia, mia cara, voglio che tu sappia che tua mamma ti aspetta sempre, con tanto amore. Un messaggio che naturalmente ha commosso tutta la community, in molti infatti hanno dedicato un pensiero sia a Romina che Ilenia, comprendendo il dolore della cantante. Un dolore che non scompare, per un ricordo che è ancora vivo, così come una tenue speranza. Un dolore che non scompare, per un ricordo che è ancora vivo, così come una tenue speranza.